Un saluto e benvenuti a questa edizione del Tg della mobilità. Da oggi inizia una nuova fase dei lavori di rinnovo dei binari lungo la linea 8. In particolare per 5 settimane un cantiere sarà attivo all'altezza di Ponte Garibaldi con l'8 che viaggia su busso lungo l'intero percorso tra il Casaletto e Piazza Venezia. Lavori anche sui binari del 3, in questo caso nella zona del Parco del Celio, la linea 3 che continua a viaggiare con trama tra Valle Giulia e Porta Maggiore e su bus tra Porta Maggiore e la stazione di Trastevere.